l'abbiamo fatta due anni fa c'era anche lui era importante una figura e manca 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 anche come per me che mi appoggiava lui era un conforto una protezione era un manager quindi l'organizzazione alcune cose ci manca si manca moltissimo però lo spirito è rimasto con noi e con noi nelle nelle nostre cose c'è c'è in tutte le nostre manifestazioni c'è nel figlio è straordinario che qua con noi che sembra che non dia nell'occhio che è inglese di madrelingua inglese poi va sull'Himalaya sotto i ghiacciai un uomo che fa sport incredibili quindi è uno che va a parlare ma no no perché noi se vai a vedere nel nostro programma le parole guerriere le parole guerriere dell'inizio del nostro programma fondato il 4 di ottobre giorno di san francesco sono le parole nessuno deve rimanere indietro condivisione senso della comunità cioè sono le parole di chi vuol fare un pochino si accorge che gli altri stanno peggio di lui come la chiesa la chiesa nel suo messaggio evangelico noi abbiamo un messaggio evangelico poi magari tanti non sono cattolici non frequentano ognuno rispetta le proprie idee si rispettano le idee degli altri per l'amore di dio grazie grazie grazie